Qui sono Trani Centro, Trani Centro, vediamo se riesco a inquadrare, Trani Centro, vedi, però Trani Centro, ma si vede bullo qua, oh cara miseria, un altro commentamento, Trani, sto registrando di nuovo, Trani Centro, Trani Centro, porca miseriaccia, a te MisteriX se mi senti, K, ma sto ricevendo delle scariche MisteriX, qua Trani Centro, su, K, e vabbè, oggi mi centri tu, mi centro io, Trani Centro, sono inquadrato, Trani Centro, svincolo Trani Trani Centro, K, Trani Centro, come faccio a stare a bari che prima stavo a morfetta, direzione foggia, e schiappa dai, vedi a rapida che sto Trani Centro, ho filmato tutto, ho filmato anche il cartello, sempre se si è visto che era buio, che cosa che c'è? Oh, Trani Centro, lo svincolo, un altro rallentamento, ma che cazzo è successo qua? Ma stiamo scherzando, veramente, oh! a bari che c'è? Ma vabbè, bocca e tu, mi vuoi sfottere a quest'ora, se prima stavo a morfetta, direzione foggia, c'era in di ora, come faccio a stare a bari che c'è? non so, le stazioni sono entrate, altre stazioni? Sono entrate, ma che non capisco tutto sto traffico, porca, porca, oggi! dimmi Franco, se ne vai Franco? Va bene, salutimi a Cappino, ok? Salutimi a Cappino, saluti tutti le amici di Youtube che sto firmando in HD! vabbè, ciao ciao Mi ha affermati, non capisco? ciao, ciao, Fudo! Vario, guarda, eh... guarda, 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 guarda è bel capolaro! Roger, come mi ascolti da Trani qua, come mi ascolti da Trani? eh, è 5, è 5! ma è buono, che dici è buono? è buono, e fatti! guarda che fai a te, no, va bene! E' qui la trani, trani! Va bene, chiudo, ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao! Ciao, ciao!